La nostra società progetta e costruisce grossi generatori di vapore per l'industria elettrica. Operiamo in tutto il mondo, siamo in gruppo di oltre 400 persone e realizziamo un fatturato di oltre 250 milioni di euro. Abbiamo una storia di oltre 100 anni nel settore con migliaia di realizzazioni e referenze sparse in tutto il mondo. Siamo fra i leader di mercato per i grossi generatori di vapore multifuel e per le caldaie a recupero ad abbinare a grossi generatori a gas. Il progetto AC Performance Plus inizia circa due anni fa con l'intenzione di innovare e reinventare i nostri prodotti. Abbiamo quindi deciso di sviluppare un sistema di assistenza e di supervisione remota con l'idea di fornire servizi all'avanguardia al nostro cliente. Grazie al supporto del nostro ufficio IT abbiamo iniziato a collaborare con Porini sin dalle primissime fasi del progetto. Proprio grazie a Porini siamo stati in grado di implementare le tecnologie Microsoft nel campo dell'IoT, Cloud e Machine Learning. Abbiamo realizzato un sistema in grado di acquisire in real time centinaia di parametri di funzionamento provenienti dai nostri sensori in campo e elaborarli nel cloud, in cui è stato creato un modello digital twin virtuale dell'impianto che ci permette di elaborare i dati sia in metodologia convenzionale che attraverso algoritmi di machine learning. Porini è sicuramente uno dei partner di riferimento per Microsoft nel mondo degli advanced analytics e dell'IoT. Fin da quando siamo stati ingaggiati per studiare questo progetto abbiamo messo in campo tutte le nostre competenze e il nostro know-how maturato in decine di progetti in questo settore per svolgere al meglio una delle nostre mission che è quella di aiutare i nostri clienti a innovare e a perfezionare i loro prodotti e i loro processi. Con il nuovo sistema AC Performance Plus abbiamo alzato l'asticella dei servizi che possiamo offrire ai nostri clienti. Attraverso questo sistema siamo in grado di monitorare in tempo reale i nostri impianti e agire con tempestività proprio grazie al machine learning e al digital twin per migliorare le performance tecniche l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto. Questo sistema permettendo di analizzare in tempo reale i parametri come efficienza, affidabilità, performance dei nostri impianti si configura come un sistema che può essere utilizzato sia su impianti esistenti, nostri e non sia su impianti nuovi per aumentare la redditività. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!